Benvenuti guardiani nel mio nuovo video su Destiny con un drop alla notte settimanale Nel cala alla notte di questa settimana dovremo affrontare la mente intramontabile con i seguenti modificatori L'epico, la rabbia, il pugilatore, il gioco di combinazioni e il contagocce Nessun abbrace quindi a nostro favore Ho affrontato il primo cala con Difela, l'abbiamo finito praticamente in due È stata un po' più lunga rispetto a quando l'abbiamo fatto in tre Però non c'erano altri giocatori disponibili quindi siamo andati in due Io ero uno stregone, lui era il titano quindi con bolla e rianimanza Siamo riusciti a buttarlo giù qua, come vedete stavo buttando tutta l'ira di Dio Mi ha ammazzato, sono ritorno in vita, bombe Ma con il telesto devo dire che mi ci sono trovato molto bene È un'arma che nei cala utilizzo praticamente sempre Sia che ci siano, ovviamente se ci sono altre braci non utilizzo il telesto Però in questo caso troviamo molti nemici a danni da vuoto Quindi ho trovato opportuno utilizzare il telesto Poi vabbè per il resto quello che volete voi Però un'arma da vuoto portatevela sempre Nei drop quello con dife abbiamo trovato l'oppressione del dubbio 00 a 292 Un'arma che diventerà molto presto tra i marchi leggendari Per poi passare all'altro cala dove con il titano abbiamo trovato il casco che già ho a 310 L'unico 310 che ho del titano E nell'ultimo cala quello con dife e i randa Abbiamo trovato il casco del cacciatore di merda leggendario A 280, 290, sotto i 300 comunque sia Quindi diventerà anche lui un buon 3 marchi leggendari Passando al fan della settimana di questa settimana Se la giudica Josie Un utente che commenta molto spesso i miei video E dà anche molti consigli per come migliorare nei video futuri Vi invito ad essere più coinvolgenti possibili Con mi piace, commenti, condivisioni con i miei video Vi ricordo anche che potete seguirmi su Facebook Nella mia nuova pagina Morti O facebook.com slash Mortigaming Vi lascio con i commenti più simpatici di questa settimana E vi invito a lasciare un pochino alzato un parere qua sotto Qua è Morti, bella per tutti Buona caccia guardiani